e l'altro giorno va a raccontare una cosa l'altro giorno stai giù a bacia, non poco, non poco a un certo punto stai a fare un scarico giù sotto la cosa a un certo punto ho visto Antonio i gatto, è neccano un po' c'è un po' che vuoi dire? Antonio, è neccano a un certo punto vanno arrivando Antonio, l'aria è chita morta è chita straforte, è chita coppa morta i miei cavalli due mi faci male i gatto vanno a giù, vanno a mangiare un po' che lascia a un certo punto andiamo giù mi fermo a un casello prima di Napoli c'è l'area di servizio e faccio dico scusi, vedi che sta a questo posto dice guarda, hai sempre dritto dopo un casello, hai detto dopo dritto c'è stata l'agenziale, prosegui ma l'agenziale, capo di chino, capo di monte capo di chino, capo di cazzo a un certo punto c'è stato il posto l'agenziale è quello, non ti faccio sbagliare ma chi sa che sbagliate a un po' a un certo punto andiamo a camminare un po' quando andiamo giù a un paese andassi al paese c'è stata come mai mi ha indicato quello un po' con la c'è stata a rotonda a un certo punto c'è stata a sinistra a sinistra c'è stata un cartello a divieto dei cammini di sopra dei sette tonnellate e mezzo 75 quintali dico cacchio qua c'è 260 quintali sono dei riporti cacchio allora c'è io vedo la macchina di Vigi a Roma si chiamano Vizzardonio quella di Vigi dico scusi io ho scaricato un po' qua allora gli faccio dicere c'è questo c'era sotto cosa dico sì ma io c'è un gioco c'è tu la sotto non ci vai mi facemmo vigile a me e io ho cominciato io ho scaricato qua perchè io qua c'è la bulla d'accompagnamento mi faccio dico come ha già passato c'era tu la tu questo coso tu la non ci vai perchè c'è un cartello che non ci ha già passato adesso facciamo mannaggia allora un po' mi faccio mi chiamo un cliente mi chiamo un cliente mi faccio e qua e dico però qua non mi fanno passati i secchi perchè c'è un cartello mi faccio il tuo cliente mi faccio il tuo cliente mi chiamano un po' aspetta a un certo punto arrivo il vostro quattro capelloni tutti tatuati qua a un certo punto che faccio eeeh dice chi è? e i vigili dico lì ci stanno i vigili che non mi fanno passare e questo è vicino i vigili e fa ma che vuoi fare? questo è un giovedì a via ma questo è un giovedì la roba la mia ma sta in bocchino allora ma che putt ho detto la roba la tua non ci porta a casa allora dai tranquillamente quattro anni capito l'anima chi è morta e tutto è tutto è tutto ma io non c'ho copione non c'ho niente ma che ma che il maffacca dai senti buono cioè io se sei un copione se sei un copione se sei un copione se sei un copione senti buono qua senti buono qua ciao 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 ciao